Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con A voi la linea. Torniamo sull'intervento del governatore della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga questa mattina all'inaugurazione dell'anno accademico. Ha detto che siamo a un passo dalla zona gialla. Sentiamo il suo intervento. All'inaugurazione del 44esimo anno accademico dell'Università degli Studi di Udine c'era anche il Presidente e il Governatore della regione Massimiliano Fedriga. Un'occasione per parlare di zona gialla. Ci siamo perché i numeri ormai portano verso questa direzione. Siamo molto vicini. Stiamo sfiorando il limite del 15% anche per le aree mediche. Per il 10% per la terapia intensiva è stato superato e penso che in zona gialla come regione ci andremo. Devo dire che è un'area dove non mi preoccupano le misure in sé perché vuol dire mascherina all'aperto e 4 al tavolo del ristorante. Non sono danni economici. Mi preoccupo ovviamente per l'aumento di contagio e ospedalizzazioni ma soprattutto per la tappa successiva della zona arancione. In quel caso sarebbero danni enormi all'economia, a dei settori imprenditoriali che hanno battuto e combattuto la crisi dovuta alla pandemia stessa che non possiamo permetterci. Lei ha più volte sottolineato il fatto di quello che praticamente stanno facendo in Austria con il lockdown? Io ho detto semplicemente che nel caso in cui dovessimo andare verso una zona arancione da zona arancione in su penso che il prezzo delle chiusure non le possano pagare i vaccinati. Per quanto riguarda la nostra regione, l'intervento che lei ha fatto appunto nel corso della cerimonia di inaugurazione. Lei ha detto raccontando la verità vogliamo praticamente fermare le menzogne che stanno mettendo a rischio il sistema sanitario ed economico. Ormai sono dati evidentemente oggettivi che le vaccinazioni funzionano, sono efficaci, sono sicure e c'è qualcuno che purtroppo facendo circolare molte menzogne allontana una fascia di popolazione, seppur minoritaria ma importante, dalle vaccinazioni stesse. Questo è un errore grave. È un errore che non possiamo permetterci perché ormai è evidente che i paesi con maggiore tasso di vaccinazione sono quelli in cui il virus circola di meno e soprattutto sono quelli in cui le ospedalizzazioni sono più basse. Noi dobbiamo ottenere oggi le ospedalizzazioni che abbiamo oggi e che sono rispetto all'altro anno decisamente più basse sono dovute ai vaccini. Noi quelle ospedalizzazioni dobbiamo diminuirle grazie ai vaccini che tutelano la salute della singola persona, la salute della comunità e l'economia di questo territorio. Per quanto riguarda le manifestazioni anche in piazza, si sta riducendo il numero dei partecipanti? Io mi auguro che tanta gente capisca che qui non c'è qualcuno che vuole far, come ho sentito dire drammaticamente, far controllare le persone dagli UFO con le vaccinazioni. Sembra una battuta ma è così, l'hanno detto in una manifestazione nella nostra regione. Ma ci sono persone semplicemente che seguendo la scienza e l'evidenza scientifica vogliono proteggere la salute, non soltanto di chi si ammala di Covid ma anche di chi è ammalato di tante altre patologie che deve trovare risposte tempestive degli ospedali e se gli ospedali sono saturi per malati Covid è la situazione insostenibile. Lei ha anche detto che fidarsi della scienza è importante in questo momento. Tra l'altro la regione lei ha annunciato che appunto per quanto riguarda il bilancio metterà a bilancio degli investimenti molto importanti proprio qui in regione. Noi prossimamente ovviamente annuncieremo questo tipo di interventi ma per quanto riguarda la fiducia nella scienza io mi domando e chi ci ascolta quando va sull'aereo e dice al pilota come bisogna guidare, al manutentore come bisogna controllare l'aereo o a chi sta nella cabina di controllo come bisogna fare quel lavoro oppure si fida. Se uno si ferma al semaforo o va avanti al semaforo si fida di un altro cittadino che si ferma a quel punto per farlo passare perché è rosso. Se qualcuno va dall'ingegnere e gli dice come bisogna costruire la casa o si fida dell'ingegnere? Gli dice no guarda questa colonna è sbagliata o si fida del lavoro? Siamo in una situazione un po' particolare. C'è qualcuno che invece ai medici insegna come si danno le medicine e come si cura. Quando uno va in ospedale si dice al medico come deve essere fatta l'operazione. Qua stiamo passando al delirio che mette a rischio prima di tutto se stessi per quello veramente l'appello che faccio ai cittadini torniamo in un alveo di razionalità e buon senso. E senta un'ultima cosa lockdown come analogo a quello dell'Austria possibile in regione Friuli Venezia Giulia? Io mi auguro che non ci siano ulteriori chiusure ho detto soltanto che se ci saranno colori che comporteranno chiusure quindi oltre il giallo penso che il prezzo non possano pagarli vaccinati e lo ribadisco. Terzo trimestre 2021 in ripresa sul fronte economico con 105 mila nuove assunzioni nel terziario in nove mesi. Scongiurato il crollo degli occupati. Il punto questa mattina nella sede di Udine della regione dove sono stati presentati dei dati dell'osservatorio congiunturale di Confcommercio FWG. Sentiamo. Atti positivi per la ripartenza grazie ai vaccini al Green Pass? Sì, tutta una serie di atti positivi. Il primo è quello economico quindi le imprese evidenziano una ripresa non è omogenea ma c'è. Secondo il sentiment positivo si guarda avanti con una certa fiducia. Terzo valutazione positiva sul Green Pass perché è stato ed è lo strumento almeno come c'è stato presentato per continuare a fare le nostre attività, quindi per mantenere aperto. Valutazione positiva sugli strumenti messi in atto dalla regione e ultimo aumento dell'occupazione nel settore del terziario, cosa che probabilmente ad aprile e maggio di quest'anno nessuno ci avrebbe scommesso un euro. Quindi nel complesso sono tutte valutazioni positive. Di certo che le notizie che appaiono negli ultimi giorni non ci devono far pensare di ricadere in una situazione di lockdown e quant'altro che sarebbe a questo punto veramente estremamente nociva e negativa per il comparto che più ha sofferto. Anche perché sarebbe un po' una presa in giro, la campagna di vaccinazione è stata appoggiata e ampiamente condivisa, il Green Pass e tutti gli strumenti giustamente che sono stati proposti a livello governativo fanno sì che questo ci abbia permesso di tornare in una pseudonormalità. Se questo non dovesse accadere vuol dire che c'è qualcosa da mettere a regime. Assessore Bini, Vaccini e Green Pass sono stati decisivi per riagganciare la ripresa? Hanno aiutato il nostro Paese a ripartire alla grande, hanno aiutato il Friuli Venezia Giulia, ben al di sopra di quella che è la media nazionale, a ripartire. I dati che ci vengono, che ci sono stati presentati oggi sono dei dati molto importanti che fanno vedere dei comparti, il terziario dei servizi in forte crescita e anche il mondo del turismo. I dati che già avevo sulla mia scrivania hanno dimostrato quanto in Friuli Venezia Giulia si è lavorato bene sia per quanto riguarda la programmazione della ripartenza con una tenuta non solo del valore della produzione ma anche degli occupati. Quindi i gufi che è come dire anatema su di voi, quello che accadrà dopo la pandemia, sono stati smentiti. Quindi un Friuli che diventa, ridiventa uno dei motori principali dell'economia del nostro Paese. Dobbiamo ringraziare appunto la scienza, dobbiamo ringraziare i vaccini, dobbiamo ringraziare i Green Pass. L'89% dei cittadini del Friuli Venezia Giulia è pro-Green Pass. Insomma, penso che scienza e economia, soprattutto in questo periodo, debbano andare a braccetto. Con fronte al turismo stiamo andando verso la stagione invernale? Sì, stiamo andando verso la stagione invernale, siamo pronti, incominceremo a sparare sui poli la neve in tutti i poli. Il 4 dicembre andremo a presentare uno dei primi investimenti del plafond di 60 milioni di euro sullo Zoncolan. Le regole sono chiare. Insomma, si sta investendo parecchio. La Giunta Federica sta investendo parecchio nel comparto, sia per quanto riguarda l'inverno, ma anche per quanto riguarda l'estate. I risultati per ora ci stanno dando ragione. È stato presentato sabato ad Aquileia, la terra nord-est, il primo progetto integrato messo a punto da privati per l'incamin turistico in Friuli Venezia Giulia. Il target di mercato è globale, la volontà è quella di integrare le attività delle istituzioni pubbliche. Sentiamo. Il mercato ormai è globale, di conseguenza il Friuli Venezia Giulia può essere veramente venduto in tutto il mondo. La peculiarità dell'offerta sarà quella di adattarsi alle necessità di ogni singolo mercato per poter andare a coprire anche periodi dell'anno che classicamente non vengono frequentati dalla clientela usuale. Il partner dell'operazione è Turismo 85 che fa parte del gruppo Danieli che è presente praticamente in tutto il mondo con aziende dalla Svezia alla Russia alla Francia alla Thailandia alla stessa Cina e sicuramente ne dimentico qualcuno. Evidentemente il punto di partenza sarà quello di andare a toccare le aree dove Danieli è presente in maniera incisiva dal punto di vista industriale. Noi siamo qua come Turismo 85 ad assicurare lo svolgimento in qualità dal punto di vista tecnico, dal punto di vista di sicurezza del prodotto per arrivare a una platea nazionale, italiana ma anche estra, parliamo di Europa ma anche fuori dai confini europei. Quello che voglio evidenziare è che Turismo 85 senz'altro si assicurerà della qualità del prodotto da un punto di vista tecnico, curando tutti i dettagli necessari alla buona uscita del progetto e ovviamente assicurando anche una qualità del soggiorno a coloro che verranno qua per finalità più legata al leisure ma anche per finalità legata al business. Diciamo che è sicuramente un'iniziativa interessante alla quale il Consiglio regionale non può che guardare con grande attenzione perché è un'esperienza che è complementare all'azione di promozione turistica che la regione, il pubblico fa attraverso le sue strutture ma la capacità e la possibilità di poter intercettare attraverso alcune parole chiave dell'offerta turistica di questa regione che sono la qualità, la diversità delle offerte, la programmazione verso anche mercati che sono a livello globale, la possibilità in qualche modo di ampliare. Allora tutto ciò che in qualche modo consente all'offerta turistica che porta in sé anche economia, porta in sé promozioni, identità, cultura del nostro territorio è qualcosa da guardare con grande attenzione. Credo che questa alleanza che parte dal basso, che è sussidiaria perché è bene che chi è sul settore, chi ha l'esperienza, chi in qualche modo ha le competenze si mette in gioco in prima persona affiancando il pubblico senza aspettare magari le risorse pubbliche per fare qualcosa ma lo fanno rischiando del proprio perché ci credono in queste idee. Allora su questo entusiasmo, su questa capacità di proporre credo che la regione debba essere al fianco, per valutare questa straordinaria possibilità di sviluppo che prende tra l'altro via proprio in questi giorni nel quale con difficoltà stiamo scendo dalla pandemia e quindi tutte le iniziative che ci portano in qualche modo progresso e sviluppo sono iniziative di speranza e anche di una speranza di qualità. Ci lasciamo adesso per una breve pausa pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo. Rieccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A voi la linea, attivare sinergie tra le eccellenze della regione e valorizzare le bellezze e le competenze friulane nel mondo. Con questo obiettivo nasce Mani Friulane, progetto che si è ispirato a Vita, un quadro realizzato dalla pietrice Stefania Zanutta che unisce professionisti dei settori dell'abbigliamento, dell'energia e della comunicazione. Gli ideatori si sono presentati nella sede della regione con un evento dedicato alle diverse declinazioni del talento friulano, dalla musica all'arte all'imprenditoria. Al centro un talk show che ha visto protagonisti tra i big come Gian Pietro Benedetti, Gabriele Lualdi e Enzo Cainero. Li abbiamo sentiti. Questa sera tre personaggi che in diverso modo hanno rappresentato, fatto conoscere anche le eccellenze friulane. Di questo si è parlato. Valore di un territorio, Enzo Cainero, che in primis hai fatto conoscere questa esperienza. Che cosa ha lasciato e che messaggio permette di mandare dal punto di vista della valorizzazione di chi siamo in Friuli? Il messaggio è semplice. Bisogna individuare, scegliere, affrontare le sfide con coraggio, avere alle spalle una buona squadra, avere tanta convinzione e farlo soprattutto per un interesse generale del territorio. Io non posso dire altro che ho lavorato con molta soddisfazione, sono molto contento. Si può essere anche sufficientemente orgogliosi e presuntuosi di quello che si può lasciare. Adesso bisogna continuare perché il mondo corre e quindi bisogna valorizzare anche le risorse umane che abbiamo. Unità tra i soggetti, un appello che ha lanciato unità anche tra i settori. Insomma, in questo senso, quello che è stato fatto con il Giro d'Italia è un esempio traslabile, dallo sport al turismo. Ma non c'è dubbio. Guarda, se non c'è unità di intenti, se ci si va avanti, divisi, noi siamo un targhettino piccolo di questo mondo che è inesistente. Se ci dividiamo è la fine. bisogna trovare dei momenti d'incontro, non sempre facile, però bisogna farlo, bisogna forzarsi. Il discorso è molto lungo, non è semplice, non è banale, però bisogna che sul territorio ognuno sfrutti le proprie peculiarità, metterle insieme e fare diventare grande tutto. A parlare di friolanità per delle aziende conosciute a livello mondiale, non solo che operano a livello mondiale. Che valore ha? Che senso ha anche il legame con il territorio? Il legame con il territorio è un valore fondamentale. Dico sempre che molto della Dagneli, quella che oggi è la Dagneli, perché alla fine ci siamo trovati in una ex zona rurale e i contadini normalmente sono abituati a fare quello che serve, non a rimandare e a cercare di fare bene, altrimenti si raccoglie poco. Questo spirito di lavoro e di iniziativa è stata una delle forze dell'azienda, senza ombra di dubbio. La ricerca dell'eccellenza poi che riguarda la Dagneli, che riguarda anche un cammino provinciale e regionale dal punto di vista industriale. Lei questa sera ha detto che bisogna avere chiaro chi vogliamo essere, che settori vogliamo andare a coprire e fare sinergia in questo senso anche in Confindustria sarà fondamentale. Sì, l'ho imparato in Sudafrica tanti anni fa quando facevo laminatore, sono andato ad avviare un impianto a Kais River vicino a Cape Town, sono diventato amico di un giovane boero che mi ha invitato a fare brunch durante una domenica a casa sua, suo padre aveva una fattoria farm. Sono arrivato e ho sentito sparare e dico ma cosa fate? E ho visto dei scimpanzei umanoidi che scappavano, dico ma ammazzate proprio quelli? Dice sì, ma perché? Dico io. Vedi, quello lì è una razza che va nel campo di panocchie, prende una panocchia, la mette sotto un braccio, ne prende un'altra, la mette sotto l'altro braccio, ma non si accontenta, ne prende un'altra e quella che aveva preso cade. In sostanza per andare via con due panocchie mi distruggono il campo. Messaggio chiaro, Danieli, Lima intende un rapporto con il territorio anche come una restituzione di quello che si è costruito nel tempo. Anche per lei, Lualdi, questo è il senso del legame con il territorio. Diceva non possiamo essere portavoci di Friulanità in quanto si parla di Made in Italy prima di tutto, ma c'è un legame con la regione? Ma fuori dubbio, diciamo la storia della mia famiglia, dell'azienda ha 90 anni, 90 anni di presenza nel territorio, nel Friuli, quindi con un'espansione in tutto quanto il mondo. Io ho sempre ritenuto di ripagare il Friuli con la mia presenza, con il mio domicilio, con la mia residenza e rinvestendo anche in attività non inerenti all'attività industriale. Questo è un ringraziamento al territorio di quello che ci ha permesso di diventare leader al mondo. Ha ancora senso in un mondo così globale parlare di local, di territorio, dico anche a livello imprenditoriale, non parlo della sua azienda ma in generale? Certo che ha senso, ha senso perché ci sono delle tradizioni che si creano nei territori. Il Friuli è un territorio che si è creato anche nell'industria delle tradizioni che hanno il loro peso nel riperire la mano d'opera specializzata, nel far crescere le persone, ma non è solo la bellezza del territorio, ma la bellezza è data anche dalle persone che lo frequentano. Per dire basta alla violenza sulle donne, l'associazione Save Art mette in campo 15 artisti messicani che disegneranno altrettanti murales in alcuni comuni del Friuli per sensibilizzare sul tema. Il progetto internazionale Il Segno delle Donne è presentato oggi a Pordenone e ha coinvolto anche la Commissione regionale Pari Opportunità, oltre a diverse istituzioni. Sentiamo. Ketty Fayon, presidente di Save Art, un importante progetto che mira a sensibilizzare anche in vista della giornata del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, un progetto anche artistico che coinvolge molti comuni del nostro territorio. Di che cosa si tratta? È un progetto artistico sociale che coinvolge 15 comuni della nostra regione, fra cui Udine, Pordenone e molti altri. Ci sono questi nostri artisti che arrivano dal Messico, che faranno dei murales, realizzeranno dei murales nei diversi comuni partecipanti, proprio per dare un messaggio di sensibilizzazione e rispetto verso questo problema che sta lacerando tutto il nostro territorio e non solo, per sensibilizzare non solo chi subisce violenza, ma anche chi vede ma non fa nulla. Perché è un problema non solo delle donne che subiscono violenza, non solo fisica ma anche psicologica, ma anche di tutta la nostra popolazione, la nostra comunità, partendo dai bambini e dai ragazzi. Quando verranno realizzati questi murales, in che modo c'è un filo conduttore particolare? Si stanno già realizzando diversi murales, il primo è già stato fatto a Travesio, adesso i nostri artisti sono a Cavasso, a Maniago, a Fiume Veneto e a Zoppola, che stanno iniziando a realizzare i primi murales e altri tre ragazzi sono su a Gemona, nell'università che collabora con noi. È un messaggio di speranza che vogliamo dare, per dire che le donne che subiscono violenza, comunque da questa sofferenza, da questo baratro, possono uscirne vincenti e con la speranza. Come è nato questo legame con il Messico? Noi come associazione collaboriamo da diversi anni con diverse istituzioni del Messico, con l'Università di Puebla, abbiamo un gemellaggio con lo stato di Tlaxcala, con la governatrice di Tlaxcala, abbiamo intenzione di iniziare una collaborazione, non solo attraverso l'arte sociale, ma anche con commercio e turismo tra i due paesi, questo sì. Diversi musei collaborano con noi, alcune fondazioni molto importanti del paese messicano e quindi facciamo quello che possiamo per dare continuità a quest'arte che si sta perdendo un po' nel nostro territorio. Testimonial di questa iniziativa è l'onorevole Marco Dreosto, eurodeputato della Lega, insomma l'importanza di sensibilizzare su questo tema anche attraverso l'arte. Ma direi di sì, il tema delle violenze sulle donne purtroppo è un tema che vede la cronaca dei giornali e dei media riempirsi tutti i giorni. Ritengo sia importante e quindi ringrazio Save Art per questa importantissima iniziativa, dicevo essere vicini come istituzioni a tutte quelle iniziative che evidentemente si ripropongono di sensibilizzare l'opinione pubblica anche attraverso in questo caso l'arte, quindi un'iniziativa particolare e importante che addirittura risvolti internazionali e che permetterà ancora una volta di essere vicini non solo al mondo delle donne ma di tutti coloro che subiscono violenze. E poi è importante il fatto che siano tanti i comuni del Friuli Venezia Giulia coinvolti in questo progetto. Infatti questo è un grande orgoglio per l'associazione Save Art ma anche per noi delle istituzioni che molti comuni abbiano e anche altri personaggi politici, altre persone delle istituzioni abbiano dato la loro disponibilità ad essere partner e sponsor di questo tipo di iniziativa. Questo dimostra veramente come noi siamo vicini a questa tematica che ripeto, una tematica che purtroppo ancora troppo spesso riempie le cronache. Noi vorremmo veramente che la violenza in generale e soprattutto la violenza sulle donne fosse davvero un brutto ricordo. Com'è possibile invertire questa tendenza? Si sta lavorando molto, rispetto al passato si sta facendo molto di più. Ma è probabilmente una questione culturale, anzi sicuramente. Quindi qui è necessario lavorare anche con i giovani, lavorare con le scuole, lavorare con le future generazioni e far comprendere quelle che sono le nuove dinamiche del mondo che vedono la donna e le persone più deboli assolutamente protagonisti di questo nuovo sviluppo che ha il nostro sistema economico e sociale. Per oggi ci fermiamo qui, vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento a domani. Buon pomeriggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.